No, rompa 6 e entra a far perdere No No Allora 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 Quello Ma Per cui Commessere Pro Prima Problema Mi Mi E Si Evitivo Si E Si effetto terreno a due mangiare la pagina se ne puoi trovarevano una tante una tante abbiamo ancora un po' una tante un po' in realtà si ma se leva un segnalino non viene distrutto no ma poi sostiene la cimitana con le pizze dalla mano eh ma qui ci sono troppo forte non si può andare anche a terreno sotto eh riciclare il massimo è questa la cosa più importante che si riciclare il massimo cazzo insacento non puoi in mente con quella te lo viaggi ah non lo so basta ce l'hai fatto però ah quasi tutti oh tu non ho morto perfetto guarda ma se c'è guarda te lo viaggi l'ho scartato l'ho scartato di lì e l'ho molto accita l'ho colore o l'è borro un po' di ala è borro uno ma lui non lo faccio ne borna vado continuare a borne è un po' di ala ma lui non lo faccio ne borna muro non lo faccio ne borna non lo faccio se non bambhere no a super vintage ma presto po' di non m Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spiegami tu. Allora, lui, giampa in base a quante carte è collegato. In quante carte giampa uno e due. Giampa, terreno e cimitero. Lui, quando è un mostro dall'estera, posso tributarlo, nego e distribuire la vocazione. Lui, levo due segnere da terreno, annulla e bandisce tutto. L'effetto su. L'effetto su. L'effetto su. Non lo so, nessuno che non ce l'ha avuto. È fino la mattina, è fino la mattina Dio è vero Puoi andare Ma che cazzo devo fare? Non lo so No, non c'è problema Non puoi fare il kaiju perchè c'ho il kaiju È troppo forte, è terreno più forte che mai si stava Addirittura, hai fatto un testo Cosa vuoi? Allora, quanto scolta 1-0 Però ti intrusi Alla prossima Di Gillo Kvani tira più forte Non sai di che parlo Sì, sì, no, sì Però Sbagliato 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 Attivo Attivo L'ho sbagliato io perchè Guarda, io sono certo No, cioè Proprio che a me sempre pensa a prescindere Perché comunque Sbagliato Sbagliato Ma che c'ho fatto? Cioè dai Io ho sbagliato l'unica carta che mi poteva fare partire Ma la vostra maniera Dio Che è collegato Cioè tipo Dio Sbagliato Ma che c'è Dio Solo che io sono partito prima Questa è un postura Solo che il postura dei jebchi è stato Ma chi è fatto? Sbagliato a chi? Eh, non so Non so quanto potessi C'era Infatti ero convintissimo Ma lì ha fatto terrafogli Ma neanche dispuglia Ma sai chi scelto il rabbi no? Qui ha detto m***a Ma chi ha fatto il votato? No, votato! No, no, non è niente No, no, no Non è niente Non è niente Ma non è niente Ma non tänker giù Ma che non ha fatto neanche, perché ci sia altro In questo modo Si, di questo, allora Ma non è nessun女 Ma non è nessun quasi Ma non è nessun cellulare Ma non è nessun giù Ma anche non lo è nessun deritto Ma non è nessun pazzo Eeeh... Sto pensavo Grazie a tutti No Questo è spazzato Dio Allora Verato Nemesis E allora Spacca 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 No, non è una volta la fitto Che cazzo di Gio eh? Fitto a segnalino No, non è una volta la fitto No, è una fitto a segnalino Fitto a segnalino Ah, pensai che l'avesse di quale è una volta la fitto No, è il segnalino.